La cultura come valore nel rispetto della legalità per l'affermazione della moralità. Su questo tema, con una conferenza del professor Aldo Loiodice, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Bari, si è aperto ieri domenica a Bari il congresso nazionale della FIDAPA, la federazione internazionale delle donne impegnate in arti, professioni e affari. Nel corso dei lavori che si concludono oggi è stato fatto un bilancio delle attività realizzate nel corso dell'anno, è stato messo a punto il programma di manifestazioni dei prossimi mesi e sono stati approvati i bilanci consuntivo e preventivo. I lavori congressuali, aperti dal saluto della presidente della sezione di Bari, Angela Cicutella, sono stati presieduti dalla presidente nazionale Giuseppina Seidita. Firmato dalla provincia di Bari un protocollo con l'Anci per il servizio di trasporto degli studenti disabili. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. 200 all'unni disabili dei comuni del Baresa potranno contare sul servizio di trasporto istituito dalla provincia di Bari. È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa tra l'ente di via Spalato e l'Anci Puglia, il servizio per il quale è necessario milione di euro circa sarà svolto dalle aziende di trasporto pubblico locale finanziato con 540 mila euro circa di fondi devoluti alla provincia dalla regione. L'aggiunta provinciale poi partecipa con 80 mila euro di fondi propri. A integrazione della somma che manca all'appello interverrà invece l'assessorato allo studio della regione Puglia. Sulla base di una rilevazione del fabbisogno nei 41 comuni della provincia, in 33 hanno chiesto l'intervento in favore di alunni disabili. Nei restanti 8 invece non ci sono ragazzi con diverse abilità che necessitano del servizio. Un buon esempio ha commentato il presidente della provincia, Francesco Schittulli, di sinergia tra diversi enti. Grazie alla concordia con il presidente del Lanci e quindi alla disponibilità del presidente Perrone e anche della giunta a Vendola perché abbiamo trovato un'intesa con l'assessore Gentile. Quindi è un fatto positivo. Quando c'è sinergia, quando c'è sintonia tra le istituzioni, indipendentemente dalle loro ideologie o dalla guida politica, io credo che si renda un servizio doveroso alla comunità. Il presidente ha poi annunciato che presto sarà istituito il terzo premio per ragazzi, la cui formula sarà scelta da studenti e docenti e sarà dedicato a ragazzo diplomato che ci sarà maggiormente contraddistinto nella celebrazione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Nuovo capitolo nella ormai infinita saga dell'oncologico. Sulla prima parziale apertura del 15 settembre grava infatti il problema delle pulizie, sulla cui gara è stato presentato l'ennesimo ricorso. Una battaglia che si trascina ormai da un anno dopo la giudicazione dell'appalto e che ora potrebbe mettere a rischio l'inizio delle attività che entro fine mese prossimo dovrebbero diventare pienamente operative nella struttura dell'ex Cotugno. Allarme zanzare. Potrebbe partire a breve uno straordinario intervento di disinfestazione in alcuni quartieri di Bari. Ad annunciarlo il presidente dell'AMI, Giuseppe Savino, a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai baresi. Chiederò immediatamente al servizio igiene di verificare, che ha fatto sapere Savino, per poi procedere ad un programma suppletivo di intervento. In ogni caso la situazione a Bari è migliore rispetto ad altre città. Parliamo di calcio. Un esordio con i fiocchi per il Bari, capace di battere ieri la Juventus al San Nicola. Un successo che ha portato grande entusiasmo in città tra tifosi e appassionati, ce ne riferisce Mirko Cavaro. E c'è l'esercito finale del direttore di gara Bari 1, Juventus 0, decide il gol di Donati, può far festa il pubblico del San Nicola. Grandissima vittoria da parte del Bari. Ora i votatori si estesano con il proprio pubblico. Grandissima partita della Floresta Ventura. Il 23 agosto del 2009 il Bari riabbracciò la Serie A spaventando a San Siro l'Inter di Murigno, poi destinata a vincere tutto in Italia e in Europa, e regalando a sportivi e tifosi i primi sprazzi di geometria e bel calcio che avrebbero contraddistinto i biancorossi per tutta la stagione. Mister Ventura, arrivato tra Dubbi e Mugugni, presentò così il suo biglietto da visita, sdoganando una nuova parola nel vocabolario del perfetto tifoso barese, libidine. A distanza di un anno la voglia di libidine e il desiderio di continuare ad emozionarsi con il Bari non si sono placate. Anzi, la vittoria di ieri ai danni della Juve, seconda di fila al San Nicola, ha rinfocolato la passione, ripagato l'astinenza estiva. In città questa mattina non si parla d'altro, nei bar, nelle edicole, agli angoli delle strade, tutto un'esaltare ventura il suo gioco. E qui Beniamini, da Almirona Barreto, da Andrea Masiello Addonati a tutti gli altri, capaci di regalare un nuovo sogno alla tifoseria. Una squadra nella quale rivedersi e della quale essere orgogliosi. Abbiamo allenatori e abbiamo gli uomini che mettono il sangue, proprio il sangue, non il sangue morto, ma il sangue è così, il sangue bianco e rossi, proprio il sangue di bar vecchio. Sono come gli uomini che giochano, non sono più castito, non sono più canale, che mettono il sangue per il Bari. Ho gioito molto nel vedere giocare una squadra veramente all'altezza della situazione. Grande Bari, mi è piaciuta la partita, mi piace la squadra come sta, il venduto. Il Bari com'è? Boh, è forte, è una grandissima squadra quest'anno, dobbiamo dire grazie anche all'allenatore. Si è divertito ieri? Boh, è roba da indusiasmare il mondo. Io non ho visto mai il Bari giocare in queste condizioni. Ha giocato veloce, con una grande voglia di vincere. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 18 e 31 gradi, venti moderati, ma rimossi. Vi ricordo i nostri indirizzi, internet www.telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video.